buongiorno amici vi faccio vedere la bietola che avevo messo tempo addietro questa con la costa rossa che è diversa dalle solite bietole come sta venendo bene senza trattamenti e nessun pesticida nessun trattamento nessun coccime ci pensa tutta la natura io ho fatto solo un buchino nel terreno l'ho messa e poi sta crescendo come vedete le cose crescono lo stesso magari con più lentezze un po più piccole ma le gli ortaggi crescono comunque ci pensa la natura io non ho fatto altro che mettere un pochino di fieno nella base della radice in modo che se non piove il terreno rimane umido perché di notte c'è la ruggiata e questo questo trattamento mantiene il terreno umido e non ha bisogno di innaffiature frequenti come vedete amici amici se uno vuole mangiare sano si può mangiare sano io non zappo non faccio aratura non faccio proprio niente non estirpo nemmeno le erbacce perché per me le erbe servono per mantenere il suolo umido e le radici servono per mantenere il suolo non tanto duro qui ho messo l'insalatina cane che si è accomodato sopra se la mangia come vedete eccolo lì si mangia l'insalata va bene tanto non è trattata la mia insalatina è naturale guardate che bella vai giù levati cosa fai lì nell'insalata tu cosa fai eccolo lì si deve mangiare l'insalata